e se provassi a fare un video con la dji action 2 si proprio lei mi sta riprendendo ora oggi facciamo qualcosa di ordinario spediamo dei pacchi e poi andiamo a caccia di fiori di pesco me l'ho detto che qua vicino a casa c'è un posticino dove si possono trovare il pacco consegnato ed ora andiamo a caccia di fiori di pesco qua i ragazzi di fedex hanno assunto un nuovo ragazzo che avrà come minimo 60 anni mi ha chiesto a me dove deve firmare la ricevuta c'è scritto vabbè fa lo stesso dove sto andando dunque in mezzo alle campagne dalle parti di roverbella ci sono diversi posti dove crescono i peschi a quanto pare ed ora andrò a vedere ho acquistato una dji action 2 action camera appunto ma forse più orientata ai creators a fare video diciamo un pochino più delicati ora non mi metterò a testarla in sport estremi però credo che si possa rovinare parecchio velocemente in ogni caso io appunto la userò per fare dei video per fare dei vlog e ora la sto testando qui siamo alla massima stabilizzazione possibile siamo in auto e non ho microfoni attaccati ovvero è solamente la dji action 2 appiccicata al vetro della macchina con uno stick adesivo che appunto è compreso nel pacchetto non lo so come si chiama ma a quanto pare tiene botta bene chissà come sarà l'audio di questa piccola action camera barra videocamera barra microcamera barra quello che volete nel frattempo vi premeva fare un paio di critiche a youtube ora io non sono un grande consumatore di servizi social se non a parte youtube preferisco pubblicare qua su youtube perchè posso dirlo sono della vecchia guardia e a me i video piacciono in orizzontale c'è sempre questa diatriba sul fatto che i telefoni hanno lo schermo in verticale ma comunque i nostri occhi sono posizionati in orizzontale e riusciamo a godere diciamo della vista in maniera orizzontale quindi i miei video sono prettamente in 16 noni e non in 9 sedicesimi a modello schermo del telefono comunque a parte questa critica che appunto è soggettiva è solo mia proprio non mi piace usufruire dei servizi dei video in verticale quindi degli shorts ho provato a pubblicarne un paio tre e hanno fatto meno che zero ma non è quello il problema è proprio il formato che a me non piace non ce la posso fare mi spiace è una cosa che non sopporto così come recentemente youtube è passata al non mettere diciamo in chiaro i dislike ovvero quando non ti piace un video metti il pollice basso normalmente e appunto quella è una cosa che non mi piace devono essere visibili perché semplicemente mi accorgo subito se un video è buono oppure no però con molta probabilità se dovessi vedere un dislike direi che sarebbe più immediato poi poi non lo so ovviamente appunto è soggettivo anche questo la terza critica non è direttamente rivolta a youtube di se stessa ma forse di più ai creators che per accalapiarsi qualche views in più creano delle copertine che sono al limite del ridicolo ora capisco fare qualche faccia un po' strana ma ragazzi proprio è orribile sembra quasi che per fare successo devi farti delle facce assurde e poi magari non sei nemmeno sicuro che il contenuto sia positivo quindi queste sono diciamo delle piccole piccole critiche che muovo in generale al mondo youtube sono assolutamente personali e chissà che poi più avanti non decido di cambiare diciamo questa mia opinione ho trovato dei fiori di pesco però devono ancora sbocciare ho deciso poi alla fine di attaccare un microfono alla dji action 2 perché finalmente ho trovato il mio campo di peschi e si trova di fianco a probabilmente una fabbrica che fa un casino pazzesco c'è un rumore che ogni tanto mi costringe a spegnere la videocamera è davvero fastidioso spero che non si senta con con il microfono sono arrivato sicuramente un po' diciamo in anticipo per quanto riguarda la fioritura dei fiori di pesco appunto e sono ancora un po' chiusi con molta probabilità qua un paio di giorni forse tre diventerà tutto rosa però io tra un paio di giorni starò lavorando e divenire in questo posto con molta con molta sincerità non so se ce la farò di sicuro anche se sono chiusi boccioli sono comunque bellissimi c'è da veramente da da perderci gli occhi c'è qualche fiore si un po' aperto qualcuno probabilmente si è aperto in anticipo ed è rimasto folgorato dal freddo che si è appunto ha proprio inquiato in questi giorni comunque è fantastico in ogni caso non so se metterà a fuoco bene fino a diciamo da vicino questa piccola videocamera ma ci provo ci vediamo e con questo è tutto dal mio bellissimo campo di fiori rosa finisco qui il video e ci vediamo nel prossimo che non so quando sarà ma di sicuro ci sarà ciao alla prossima ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.